A me non piace neanche che voi cittadini siate presi per i fondelli, perché vi stanno prendendo per i fondelli dal primo all'ultimo. Incominciamo dall'ex sindaco Melucci. L'ex sindaco Melucci non ha mai voluto l'ilva chiusa. L'ex sindaco Melucci è un industrialista convinto, convintissimo. Alcuni anni fa in un'intervista mi disse, quando io gli dissi ma chiudiamo questa maledetta ilva, rispose ma se lei vuole chiudere l'ilva evidentemente vuole ridurre la città a 50.000 abitanti. Dissi sì certo a 50.000 abitanti arriveremo per i tanti morti che ci saranno. Abbiamo l'ex sindaco Melucci che in un'altra intervista, quando gli parlai dell'aeroporto, perché è assurdo che noi abbiamo un aeroporto bello e pronto, l'arlotta di Grottaglie. Io dissi ma è inammissibile che non ci siano voli civili, voli passeggeri come ci sono in altre realtà pugliesi. Penso a Brindisi, penso a Bari, fra poco anche un diretto per Milano dal Gino Lissa di Foggia. Lui rispose mentre era presente De Caro, si avvicinò e disse direttore, direttore faccia rispondere a me. Scusi, almeno prima mi faccia fare la domanda e poi dalla risposta. Dice ma non è necessario che chiudiamo, che apriamo ai voli passeggeri perché tanto ci sono Brindisi e c'è Bari, si può andare a Bari e a Brindisi con le navette. Signori ma questo è il sindaco di Taranto o il sindaco di Brindisi o il sindaco di Bari. Melucci, detto alla Tarantina maniera, ma tu cuccioveco a Sampodoria con chi vai? Cosa rappresenti? Non rappresenti Taranto! Perché un ex sindaco, un sindaco che dice queste cose dimostra di non amare il proprio territorio, perché un sindaco dovrebbe difendere con le unghie e con i denti il territorio tarantino, non tarpare le ali allo sviluppo, perché non si può fare turismo senza infrastrutture, non si può fare turismo senza aeroporto. L'ex sindaco Melucci si vanta, parla, parla e parla, ha fatto un libricino, un opuscolo, le cento cose che ho fatto e io mi sono incuriosito a sfogliarle, mi sono incuriosito a guardarle l'una dietro l'altra. A un certo punto leggo, ho riqualificato la Villa Peripato, la Villa Peripato è ridotta a uno stato di abbandono che voi non ne avete idea, incominciando dalle giostrine per i bambini, per andare a finire allo spiazzo, alla pista appunto dove, battonata, dove dovrebbero giocare i bambini e i mattoni sono completamente divelti, pericolosissimi, per non parlare poi della piscina, l'ex piscina che è ora ridotta una latrina, scusatevi l'espressione. E quest'uomo vive di fantasia, vive di chiacchiere, vi propina chiacchiere, dalla mattina alla sera. Pensate, ha detto che ha riqualificato il piazzale Bestat e io sono stato chiamato da molti cittadini e sono andato a vedere il piazzale Bestat. Mattoni pericolosissimi, uno più rotto dell'altro, grate completamente sprofondate nelle quali ci entra una gamba. Questo signore, che è più bugiardo di Pinocchio, va a dire che ha riqualificato il piazzale Bestat. Ma ci stiamo rendendo conto di chi stiamo parlando? Ma ci stiamo rendendo conto che il sindaco Melucci ha messo i parcheggi a pagamento in quasi tutta la città. Ha ucciso il commercio di Taranto. Qui non stiamo a Monte Carlo, dove si può navigare nello sfarzo, dove si può navigare nell'oro, anche nella fascia pomeridiana. Dall'una e mezza alle quattro e mezza, dalle tredici e trenta ha messo i parcheggi a pagamento. La stazione di Taranto, che è ridotta a un letamaio, l'unica stazione d'Italia che non ha un bar. Una stazione nella quale piove, l'altro giorno un po' di pioggia, nulla più. Una stazione completamente allagata. Ora è chiaro che la responsabilità è di ferrovie dello Stato, ma tu sindaco che fai? Non batti i pugni? Se dici davvero di amare il turismo? Bene. Il biglietto da visita, mi suggerisce giustamente Vanni. E se questo è il biglietto da visita, e se questo è il buongiorno a Taranto è notte fonda. Questa è la realtà incredibile che noi viviamo a Taranto. E in quella fogna di stazione, in quella fogna di piazzale a distante la stazione, cari amici, c'è il parcheggio a pagamento, 24 ore su 24. Vogliono spennare Taranto. Si ricordano di voi Tarantini? Quando arrivano le elezioni? Quando ci sono da pagare le tasse? Taranto sveglia! Taranto ribellati! Taranto e Tarantini! Abbiamo una città che è stata commissariata da cinque anni a questa parte, è commissariata da Emiliano, Emiliano giù le mani da Taranto. Quando è stato eletto Melucci, la prima cosa che ha fatto Emiliano gli ha appioppato le guardie del corpo, il vice sindaco che era barese, l'assessore ai lavori pubblici barese, uomini suoi messi da Emiliano per controllare Melucci. Emiliano è diventato il padrone di Taranto e il signor Melucci pur di trattenere la poltrona dice signor sì al signor Emiliano, anche se poi bisogna capire i doppi giochi e l'equilibrismo di Emiliano. Perché voi siete proprio sicuri che Emiliano appoggi Melucci? O Emiliano strizza anche l'occhio a Musillo e strizza l'occhio a Gugliotti? Perché ricordate che alla provincia il signor Emiliano appoggiò Gugliotti, non appoggiò Melucci. È un altro doppio giochista, il mangiafuoco di Puglia, lo zar di Puglia. Come sindaco Emiliano verrà poche volte a Taranto, gli faremo passare la voglia di venire a Taranto perché noi urleremo Taranto ai Tarantini, vogliamo ridare questa città a noi Tarantini dopo che ci è stata scippata in tutti i modi.